Buongiorno a tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento. Sono Giorgio Bellini, sindaco del Comune di Argenta. Quello che vorrei fare è un saluto ai miei concittadini argentani e anche avere questa opportunità di dire due parole sul mandato che sto concludendo in questi primi cinque anni della legislatura. È stata un'esperienza molto formativa e interessante ma anche molto difficile. Io sono stato chiamato a questo ruolo da una coalizione di partiti politici che mi hanno chiesto espressamente un impegno sull'amministrare questo comune dopo un momento di grande crisi storica, crisi economica ma anche sociale dovuta al crack della Copcostruttori. Io ho accettato con molto timore ma anche con molta speranza questa sfida che si è presentata come era anche nelle premesse molto difficili e impegnativa per cercare di dare un contributo al paese in cui abito e che amo. Devo dire che è stato un impegno a cui mi sono dedicato a cui ho dedicato tutta la mia attività e quindi ho dovuto abbandonare quella che facevo precedentemente come libero professionista, come architetto. L'ho fatto però proprio per cercare di dare un contributo al nostro comune, per cercare di ridare anche quella fiducia che vedevo si stava perdendo tra i nostri concittadini. Siamo partiti con un programma elettorale molto impegnativo cinque anni fa. Ritengo che quasi nella totalità dei casi abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo premessi. Sarà anche di prossima pubblicazione un piccolo puscolo dove diremo ai nostri concittadini tutto quello che è stato fatto in questi cinque anni. Un impegno molto gravoso, torno a ripetere, perché è svolto in periodi sempre di crisi economica. Parlavo prima della crisi della Copcostruttoria, questa si è aggiunto anche una crisi nazionale economica che non ci ha mai abbandonato in questi cinque anni e purtroppo dal 2008 anche questa grave crisi finanziaria internazionale che fa sentire gli effetti devastanti anche anch'essi in questi ultimi giorni proprio nel nostro paese. Però voglio dire l'impegno non è mai mancato, abbiamo sempre cercato di portare avanti tre cose fondamentali. Primo mantenere i servizi e quindi la qualità di vita di questo comune che noi riteniamo alta allo stesso livello, quindi non tagliare i servizi che vuol dire servizi a tutti i cittadini, le scuole, lo sport, i luoghi di ricreazione ma anche tutti i servizi che un comune deve dare. Il secondo punto era quello di mantenere anche l'imposizione fiscale locale nei termini più bassi possibili ovviamente rispetto all'aumento dei costi che i comuni devono sopportare tutti gli anni. Questi erano due dei temi fondamentali del nostro mandato. Il terzo non meno importante era quello di creare anche dei progetti di sviluppo per ridare vigore all'economia del nostro territorio. Noi pensiamo che questi punti siano stati svolti e risolti in qualche modo, saranno poi cittadini io penso a dover dire in maniera molto più autonoma se i nostri risultati saranno stati apprezzati. Però devo dire che sulla carta ci sono. Sono andati avanti importanti progetti come l'ospedale di Argenta che in un momento in cui nella provincia di Ferrara gli ospedali locali vengono chiusi. L'ospedale di Argenta invece sarà ampliato e proprio poco prima della scadenza del mio mandato prenderà vita un nuovo padiglione molto importante con nuove sale operatorie, quattro nuove sale operatorie e circa 40 posti di nuova degenza. È finalmente partito il cantiere della Statale 16, una delle arterie più importanti che ha dato benessere a questa comunità e che stavamo aspettando da ben 30 anni. Finalmente il cantiere è partito ed è in fase di realizzazione. Questi sono due progetti veramente molto significativi. Ma poi voglio dire in nostra area produttiva non si è depauperata. Le aziende del nostro territorio anche se faticosamente hanno mantenuto la loro posizione e proprio in questi ultimi tempi siamo riusciti anche attraverso l'aiuto della provincia e della regione a portare ad Argento un importante insediamento industriale che troverà, che si sta già operando nella nostra area produttiva e che è l'insediamento di Ferrara Food, lavorazione del pomodoro e produzione di conserve ma successivamente anche lavorazione di succhi di frutta che darà lavoro a circa 50 addetti e nel periodo della stagione del pomodoro ad altri 100 addetti in modo ovviamente temporaneo. Questo per dire che il nostro territorio ha dato modo di dimostrare che ha una natura nel reagire ai momenti di grande crisi. Io per questo ringrazio i miei concittadini, i cittadini di questo comune, tutte le nostre frazioni proprio per aver dimostrato di non lasciarsi andare anche nei momenti di grande crisi e di grande sfiducia. Non l'abbiamo ancora superato questo momento, ne siamo ben a conoscenza, però vedo che il senso è quello di reagire, che è la cosa a cui più tengo. Per continuare un attimo in maniera molto veloce e sintetica devo dire che abbiamo anche svolto notevoli investimenti nella cultura del nostro comune, quindi non solo nello sviluppo economico ma anche nella cultura, nella scuola innanzitutto. Questo comune ha un ciclo di studi che va dagli asili nido addirittura all'università. Non dimentichiamo che abbiamo proprio qui ad Argenta una sede di staccata dell'Università di Ferrara che opera per quanto riguarda la didattica a distanza e di cui noi siamo molto orgogliosi. E questo ovviamente sostiene anche gli investimenti culturali che nel nostro comune sono stati fatti attraverso una stagione teatrale tra le più ricche che si possano avere in ambito nazionale, ma anche per spazi che noi abbiamo dedicato alle manifestazioni culturali, recuperando il vecchio mercato coperto e destinandolo proprio a centro culturale per conferenze, manifestazioni, mostre artistiche che ha già un anno sulle spalle di grande attività. Ma anche gli investimenti che noi abbiamo fatto attraverso lo sviluppo di alcuni elementi come il centro dove voi state, Argenta TV per dirla ai nostri concittadini, opera già da diverso tempo in collaborazione con l'Università di Ferrara e in collaborazione con le scuole del nostro territorio per portare avanti anche sistemi di comunicazione televisiva che sono stati ampiamente apprezzati, tant'è vero che la stessa Argenta TV fa parte di un canale digitale che la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione. Quindi anche nella cultura grande investimento, scuola e cultura. Per concludere in questi grandi temi anche investimenti sulle nostre aree naturalistiche, paesaggistiche che hanno portato turismo nel nostro comune, un turismo certo di caratteristiche particolari, vengono da noi persone nei weekend o scuole a visitare i nostri centri strutturati, in particolare l'Ecomuseo di Argenta che ricordo fa parte del Parco del Delta del Po, noi abbiamo una stazione del Parco del Delta del Po, abbiamo Val Campotto ma abbiamo anche la stazione di Anita dove abbiamo svolto importanti investimenti e anche questo è stato fatto per arricchire il nostro comune, un arricchimento non solo economico facendo venire gente da tutte le parti, non solo dei comuni limitrofi anche ma delle regioni vicine, ma anche uno strumento di arricchimento culturale perché mette in evidenza l'estrema ricchezza non solo di tradizioni ma anche di prodotti tipici locali e delle nostre zone umide, in particolare appunto un'area della valle di Comanchio, Boscoforte che è di proprietà del comune di Argenta, ma anche la valle Campotto che è una delle zone umide più importanti d'Italia. Queste sono le perle, mi viene da dire, del nostro comune al quale noi abbiamo cercato di dare forza, sostegno e che ci stanno dando degli ottimi risultati. Quindi nell'ottica di continuare a reagire a questi momenti di grande impegno economico e di crisi, noi penso abbiamo dato modo di saper dare anche risposte. Questo è quello che mi viene da dire così in sintesi su quello che è stato il mandato. Per quanto riguarda la popolazione argentana io devo dire che la conosco da diversi anni, è una popolazione che ha delle caratteristiche molto particolari che io amo molto. Il comune di Argenta è formato da 13 frazioni e io dico potrebbero essere 13 comuni perché ogni frazione si atteggia quasi a Repubblica Autonoma, ma questo in sé è una buona caratteristica perché significa avere amore delle proprie radici pur sapendo di fare squadra in un territorio comunale molto più ampio. C'è un orgoglio nell'essere anche appartenenti a questo territorio comunale che noi abbiamo cercato di cogliere e che ci piace. Io ai miei concittadini colgo anche l'occasione per dire un grazie di cuore perché ho potuto cogliere in questi cinque anni molta solidarietà, molto impegno da parte delle associazioni che ci sono sul nostro territorio, dei cittadini stessi e devo dire che questo è un valore che mi porterò sempre nel mio percorso di vita adesso che tornerò anche a svolgere la professione di architetto. Un grazie veramente di cuore e comunque io rimarrò a disposizione anche perché rimarrò in questo nostro comune e quindi continuerò anche a sostenere da un altro punto di vista, dal punto di vista del cittadino e del professionista, quella che è questa realtà argentana che amo così tanto. Grazie.